Noi ovviamente stiamo seguendo tutti i protocolli anche attivati a livello nazionale e in più faremo materiale informativo per spiegare ai cittadini miglior comportamento in caso di situazione sospetta. La cosa fondamentale è quella di chiamare il 112 se uno ritiene di essere in situazione a rischio, non andare fisicamente direttamente in pronto soccorso dal medico di base e quindi dopo gli operatori fanno una valutazione del caso telefonica e spiegano che tipo di intervento è necessario fare. Inoltre stiamo potenziando tutta la struttura sia del 112 che l'infettodivologia proprio per rispondere alle esigenze della cittadinanza, stiamo facendo una valutazione su siti necessari, quindi strutture necessarie in caso si dovesse presentare la necessità di isolamento e quindi di tutelare la popolazione sana ovviamente in caso ci fosse necessità di isolamento per situazioni sospette e stiamo individuando anche tutti i percorsi all'interno delle strutture sanitarie per mitigare al massimo il rischio di contagio.